Buonasera e benvenuti al nostro programma Primo Cittadino che vede i protagonisti sindaci del territorio. Do subito il benvenuto all'ospite di questa sera, il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli. Buonasera. Buonasera. Dunque ricordiamo che lei ha vinto le elezioni nel 2009, per cui è al secondo mandato. Quando si è insediato c'era un grosso problema di bilancio. Di che cifre parliamo? Sì, io parlavo quasi di sesto del bilancio comunale della città di Pergola, lasciatomi in eredità, perché ogni cittadino pergolese aveva sulle proprie spalle, neonati compresi, ben 1113 euro di debito, per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni 700 mila euro. E in quale modo siete intervenuti? Siamo intervenuti drasticamente, riducendo questo debito, che poi corrisponde ad interessi che annualmente i cittadini di Pergola dovevano pagare, e lo abbiamo ridotto, secondo il bilancio di previsione di quest'anno, di circa il 41%, oltre il 41%, e lo abbiamo portato circa 4 milioni e mezzo di euro. Vogliamo fare ancora meglio alla fine del mio mandato, quasi cancellando completamente il debito della nostra città. Questo potrebbe significare ulteriori interventi, investimenti anche? Sicuramente sì, questo è l'obiettivo primario per cui si riduce il debito. Primo, per non sperperare le risorse dei pergolesi e le tasse che pagano i pergolesi. Il secondo è per poter liberare delle energie, quindi delle risorse, per nuovi investimenti, e porre rimedio alle tante eredità negative del passato che sono state lasciate, dalle strade all'abbandono dei quartieri, delle località o delle frazioni della nostra città. Con un buon piano di investimenti, progressivamente, stiamo ponendo rimedio a queste situazioni difficili. Un altro dei suoi obiettivi è quello della caserma dei carabinieri. Sì, liberare risorse significa anche puntare alle strategie del futuro per lo sviluppo della città. C'è una riorganizzazione complessiva delle forze dell'ordine sul territorio a livello nazionale, lo sarà anche nella nostra regione e nella nostra provincia, quindi guardiamo avanti, dotando la nostra città o volendo dotare la nostra città in futuro di una nuova caserma dell'arma dei carabinieri che possa far fronte a queste esigenze di modernità anche dell'arma. Abbiamo già un progetto di fattibilità approvato dalla nostra giunta, le pratiche sono avviate e spero di poter avviare i lavori e quindi almeno di realizzare il progetto esecutivo entro la fine di questo mandato. Molto utile al lavoro, alle indagini da parte dei carabinieri, ma tutte le forze dell'ordine sono le telecamere intelligenti che mancano in molte parti della città. Sì, da noi abbiamo già approvato il primo stralcio programmatico di una serie di interventi sulla nostra città, nella nostra città, perché la sicurezza è un bene primario che va garantito ai cittadini, il primo stralcio è di oltre 60 mila euro con la quale doteremo una parte della città di queste telecamere intelligenti, ma è solo un primo stralcio perché vorremmo veramente dotare tutti gli ingressi della città e punti sensibili di questi strumenti in maniera tale che siano al servizio non solo della nostra polizia municipale ma della sicurezza in toto dei nostri concittadini, quindi metterle al servizio anche delle forze di polizia. Penso che sia primario perché ormai la criminalità non si insegue più per le strade ma con un'attività di indagine che ha bisogno di questi strumenti tecnologicamente avanzati. Sindaco, mi conferma che non avete nessun debito con le imprese? Sì, oltre al risanamento del bilancio era fondamentale il rispetto per le imprese, per i piccoli e medi imprenditori che lavorano per gli enti pubblici. Mi sono trovato nel 2009 un milione di euro di debiti verso le imprese lasciati dai precedenti amministratori, le abbiamo azzerati e d'ora siamo un'amministrazione che paga le proprie imprese entro 30 giorni dalla fatturazione. Complimenti per questo, le leggo subito una segnalazione. Sindaco, sono previsti interventi di asfaltatura? Già nel secondo mandato, è trascorso circa un anno, abbiamo fatto circa un milione di euro di lavori, tra cui molte asfaltature. L'obiettivo è quello di riasfaltare tutte le strade della nostra città, lo avremo già fatto se il patto di stabilità non ci avesse bloccato, non ci bloccasse dei fondi, ma proprio nei prossimi mesi partiranno nuove asfaltature, tempo permettendo perché d'inverno purtroppo le asfaltature non le possiamo fare. A proposito di legge di stabilità, Pergola è un comune virtuoso, avrei proprio argomento di questi giorni? Sì, abbiamo cancellato tutti i criteri di deficitarietà del nostro comune, secondo i parametri fissati dalla legge. Proprio parlando ad esempio di indebitamento, la legge fissa l'8% sulle spese correnti dell'indebitamento, noi siamo al 4,3%. Questo ci rende orgogliosi perché significa non solo risparmiare, ma rispettare i sacrifici dei nostri concittadini. E per quanto riguarda le riforme sugli assetti istituzionali, che cosa ne pensano? Beh, sicuramente le riforme che sono state approvate anche questi giorni vanno interpretate come delle finte riforme. Ci hanno detto che avrebbero cancellato le province e le province non sono state cancellate. Ci dicono che cancellano il Senato e in realtà non cancellano un bel nulla perché lasciano gli apparati. Sono quelli dove i partiti più si insinuano e più vediamo anche in questi giorni scaturire degli scandali abbastanza drammatici per le nostre istituzioni, a partire dalle regioni o a partire dai grandi comuni. Pensa la regione Lombardia in cui la magistratura sta accertando delle responsabilità o il comune di Roma. Nel frattempo si parla di fusioni, di accorpamenti di comuni, ossia stanno distruggendo quegli apparati istituzionali che realmente funzionano. I comuni, soprattutto quelli medi e piccoli, sono coloro i quali cercano almeno di dare risposta ai cittadini, hanno il contatto diretto con le comunità. Gli accorpamenti purtroppo creeranno altri centri di potere incontrollabili dai cittadini. E per quanto riguarda invece le stazioni uniche appaltanti? Penso che da un punto di vista ideale potrebbero essere di buoni strumenti per ridurre i costi delle pubbliche amministrazioni. Ma in realtà, visti gli scandali che stanno accadendo nelle grandi regioni, nei grandi comuni, forse la stazione unica appaltante non è un'esigenza immediata perché potrebbe concentrare il potere in mano ad un'unica stazione unica appaltante distruggendo le piccole e medie imprese che operano sui nostri territori a vantaggio delle grandi società o delle grandi cooperative. E in secondo luogo, mentre le singole stazioni appaltanti dei nostri comuni sono direttamente controllabili sia dei sindaci che dei cittadini che hanno un controllo diretto sull'apparato e sulla macchina comunale, in queste grandi aggregazioni il controllo verrebbe a mancare. Non vorrei che poi la magistratura dovesse intervenire anche sulle stazioni unica appaltanti. Sindaco, sulle fusioni che cosa ne pensa? Anche Pergola sarà coinvolta? Io le fusioni non credo, lo accennavo precedentemente, io credo a convenzioni tra i comuni per creare delle sinergie tra i comuni. L'Italia d'altronde si è formata sui comuni, ora qualche politico che si è alzato presto la mattina vuole decidere di cancellare i comuni magari per un'utilità o per la propria carriera politica personale. Io credo che invece i comuni debbano collaborare, rimanere così come sono, collaborare tramite convenzioni riducendo i costi dei servizi ma non cancellare queste entità territoriali fondamentali per il controllo del territorio, per il governo del nostro territorio. Vado avanti con un'altra segnalazione. Eseguirete dei lavori anche nei cimiteri cittadini? Tra l'altro molti interventi li avete già effettuati? Già abbiamo fatto diversi interventi nel primo mandato, ne effettueremo anche nel secondo prevedendo anche degli ampliamenti, mantenendo però l'ornato del cimitero che ci è stato tramandato e ci è stato lasciato dai nostri avi. Dunque, l'assessorato al bilancio ha fatto uno studio in base ad alcuni dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2013, per cui questo studio è stato effettuato nel 2014. Emerge che per quanto riguarda l'Imu, quindi la tassa sulla casa, Pergola, tra quelli con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, risulta il primo comune della provincia e il sesto della regione Marche a far pagare l'importo inferiore ai cittadini. Sì, abbiamo cercato di tassare il meno possibile i cittadini anche nei confronti di questa evoluzione normativa che imponeva delle nuove tasse sulla casa e sulla proprietà. Siamo riusciti con questi strumenti e con questa attenzione ad essere appunto il primo comune sopra i 5.000 abitanti nella nostra provincia, avere la tassazione più bassa in base a questo studio e il sesto comune dell'intera regione. Questo è un altro motivo di orgoglio. Mi piace dire che magari vivere a Pergola siamo un po' lontani dalle arterie principali, ma c'è una buona qualità della vita e sicuramente si pagano meno tasse. Ecco, diciamo anche perché comunque la casa è un nostro diritto avere un tetto sopra la testa. Sicuramente la prima casa sì e poi anche sulla seconda casa credo che le tasse siano diventate troppo elevate e le nostre famiglie, i nostri cittadini non riescono più a reggere questo peso dell'imposizione fiscale. Passiamo al tema della sanità. Nei giorni scorsi, e qui dovremmo avere una fotografia, lei ha accompagnato Giorgia Meloni, ovviamente leader nazionale di Fratelli d'Italia, eccola, la vediamo in questo momento. Meloni che cosa ha chiesto? Ha voluto innanzitutto visitare per prima la stanza che ospita le attrezzature per due posti letto di terapia intensiva, però mai avviati. Come mai, Sindaco, qui? È un vero proprio scandalo della sanità. La sanità italiana si configura spesso e si connota stesso per grandi scandali. Questo è uno scandalo marchigiano. Due posti letto di terapia intensiva, post-operatorie, che potrebbero salvare tante vite dei nostri concittadini, dei concittadini delle nostre valli, che non trovano magari posto a volte in altri ospedali, sono abbandonati da oltre tre anni in una sala dell'ospedale di Pergola. Mai attivate, al di là di quelle promesse tre anni fa fatte dall'allora assessore regionale, che ci aveva garantito che quei posti letto, accettando la donazione, da oltre 100 mila euro, ricordiamolo, sarebbero stati attivati quelle attrezzature entro 30 giorni. Sono passati tre anni, nulla è stato attivato, addirittura oggi l'Asor dice che quei due posti letto di terapia intensiva nemmeno esistono. Il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Maloni, ha chiesto al Sindaco di poter visitare l'ospedale. Io l'ho accompagnata e abbiamo preso insieme atto di quello che sta accadendo a discapito del diritto alla salute dei cittadini, non solo di Pergola, ma della nostra provincia. Quindi una promessa non mantenuta assolutamente. Che cosa chiede al Presidente Ceriscioli? Io direi che non è soltanto una promessa non mantenuta, è una delle tante promesse non mantenute sulla sanità nella nostra regione e nella nostra provincia, in tutta la nostra provincia. Al Presidente Ceriscioli do atto che si è appena insediato, anche se è il successore di una maggioranza che ha lo stesso colore politico e lo stesso modo di pensare della maggioranza precedente. Però dobbiamo credere nella buona fede dei nuovi amministratori regionali, quindi l'ho già invitato a venire a Pergola e anche lui a fare un sopralluogo insieme a me. Sicuramente si renderà conto di questo sperpero di denaro pubblico e di questo scandalo della sanità marchigiana. Quindi si renderà disponibile a fare un tour anche con il Presidente? Sicuramente sì, perché è comunque il nostro Presidente della Regione, ed essendo il nostro Presidente della Regione, credendo nella sua buona fede, sono sicuro che di fronte a questo scandalo dovrà intervenire attivando quei due posti letto. Rimaniamo sul tema della sanità perché in merito abbiamo una segnalazione. Sindaco, che cosa ne pensa dell'ospedale unico? Io credo che innanzitutto l'ospedale unico sia soltanto una chimera, una chimera di chi deve nascondere il fallimento della gestione della sanità nella nostra Regione e in modo particolare nella nostra provincia. Si sta cercando di distrarre l'attenzione dei sindaci e delle nostre comunità sulla ubicazione dell'ospedale unico. In realtà questo nasconde che la nostra provincia ha solo 2,73 posti letto ogni mila abitanti, nei confronti ad esempio della provincia di Ancona che ha 4,66 posti letto ogni mila abitanti, a ospedali distribuiti in maniera omogenea in tutto il territorio della propria provincia, noi non li abbiamo. Addirittura adesso stiamo pensando alla riconversione sostanzialmente di Fano, nell'ultimo comitato di sindaci tenuto sia Urbino, addirittura il direttore generale dell'Asur, il dottor Marini, ha detto che nemmeno Urbino è un ospedale ma una porzione di ospedale, quindi sotto questa chimera si nasconde la volontà di distruggere la sanità che attualmente abbiamo sul territorio, è già successo nell'entroterra, non vorrei che questo succedesse anche a Urbino e a Fano e a Pesaro. Dunque proseguiamo con queste segnalazioni perché come diceva lei per la nuova ubicazione, secondo il nostro telespettatore ci dice che Pesaro sarebbe improponibile, Fano forse nella zona periferica di Chiaruccia, mentre una terza ipotesi dice è quella della periferia di Calmazzo, al centro della provincia, ben raggiungibile anche da Urbino e Pergola. Che cosa ne pensa? Beh, Calmazzo non è ben raggiungibile da Pergola, forse da Urbino, ma il problema non è dove posizionare l'ospedale unico, l'orografia del nostro territorio è particolarmente difficile, per cui non c'è una zona ideale. Quindi non c'è una zona baricentrica? Non c'è una zona baricentrica e felicemente raggiungibile da tutte le zone della nostra provincia. Il problema è un altro, i servizi ospedalieri che vogliono essere offerti. Se noi guardiamo gli atti della nostra regione, indica che nel nuovo ospedale unico, che mai si realizzerà, dovranno essere offerti i servizi di assistenza ospedaliera a livello minimo. Qui non significa alte specializzazioni come qualcuno vuole far credere ai nostri cittadini, alle nostre comunità o a qualche sindaco. Qui si tratta di quei livelli minimi di assistenza che stavamo già dando coi nostri ospedali. Mi viene solo un dubbio, qualcuno l'ha già ammesso, non è che vogliamo smantellare la sanità pubblica per lasciare posto e aprire il nostro territorio ai privati. Se così fosse, io l'ho già detto in passato, la nostra amministrazione non ci sta e denunceremo questa volontà, non solo con i mezzi di comunicazione, ma anche con manifestazioni scendendo in piazza. Quando dice che l'ospedale unico non si farà, si riferisce ai fondi mancanti? Lo hanno ammesso loro stessi. Non c'è un progetto, non ci sono fondi e allora apriamo le porte ai privati. Vogliamo la sanità americana dove il ricco si può curare e la povera famiglia che fatica tutto il giorno non può arrivare a garantirsi nemmeno la tutela del diritto alla salute. Beh, questa non mi sembra una sanità che noi possiamo accettare nella nostra regione ed è una sanità che purtroppo giorno dopo giorno viene depotenziata e i problemi incominciamo a incontrarli anche lungo la costa. Peraltro se manteniamo solo le strutture della costa, l'entroterra si concentrerà come un umbuto verso gli ospedali di Fano e di Pesaro, se ci saranno poi più e mancheranno anche i posti letto. E tutto a discapito dei cittadini? Certo. Andiamo avanti con le segnalazioni. Sono previsti i lavori per la messa in sicurezza delle scuole? Sì, stanno partendo. Abbiamo appaltato proprio in questi giorni il rifacimento, la messa in sicurezza del padiglione B del nostro istituto comprensivo e della direzione didattica. Questi vanno ad aggiungersi altri 390-400 mila euro di lavori che abbiamo già programmato e realizzato in passato ed altri che ne vogliamo fare in futuro. Sono le nostre giovani generazioni, le dobbiamo coccolare, le dobbiamo curare e soprattutto dobbiamo garantire la loro sicurezza. Io vorrei chiudere questo appuntamento con lei con un evento molto importante del vostro territorio, tra l'altro domenica è prevista la chiusura della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiata appunto di Pergola. Di successo in successo, Sindaco? Siamo stati abbastanza fortunati anche con il tempo. Si prevedevano cicloni a Pergola, siamo stati sempre baciati dal sole, ci hanno raggiunto decine di migliaia di visitatori. Tra cui Giorgio Meloni, mi scusi se l'interrompo, ma stiamo vedendo adesso queste fotografie. Ha fatto proprio un tour di tutto il vostro territorio, dall'ospedale al centro. Ha fatto un'ispezione all'ospedale, poi si è voluta passare questo weekend a Pergola, c'era già stata l'anno scorso, si è definita innamorata della nostra città. Io ne sono orgoglioso e spero che siano sempre più i leader nazionali che si innamorino di Pergola, della Fiera Nazionale del Tartufo e soprattutto della qualità che riusciamo a garantire al visitatore. Cioè, chi viene a Pergola, viene a visitare la nostra fiera, chi vuole mangiare tartufo, mangia tartufo del nostro territorio. Sotto una parola chiave o d'ordine, rispetto. Rispetto verso il prodotto che ci viene offerto dalla terra, rispetto verso il visitatore italiano o straniero che raggiunge il nostro territorio, la nostra comunità. Per chi ancora non fosse venuto a questa fiera, a questo evento, ecco, vediamo adesso anche il taglio del nastro, risalente due domeniche fa. Raccontiamo un po' quello che trovano, che potrebbero trovare. Ci sono all'incirca due chilometri di espositori. Due chilometri di espositori come una vera e propria vetrina del Made in Marche, quindi non solo tartufo pregiato di qualità, ma una vera e propria vetrina del Made in Marche in Italia e nel mondo. Con una stand anche stranieri, di stand degli amici tedeschi o degli amici olandesi. Nelle prossime giornate, nell'ultima giornata, nell'ultimo weekend, diciamo, dedicato al tartufo a Pergola, avremo anche stand di altre regioni che useranno la Fiera Nazionale del Tartufo di Pergola per proporsi al turismo del 2016, per la prossima primavera estate del 2016. Quindi per noi è una grande soddisfazione. Poi i visitatori trovano spettacoli, cultura e eventi. Non posso dimenticare i quattro bronzi più belli del mondo, così come sono stati definiti dal professor Vittorio Sgarbi, ossia i bronzi dorati di Pergola. Non posso nemmeno dimenticare gli spettacoli e degli eventi che contraddistinguono la nostra fiera dalle 10 della mattina fino alle 21 della sera. E non manca anche una casa del tartufo. Casa del tartufo e Piazza del Gusto. Casa del tartufo dove si può acquistare il tartufo di qualità, quest'anno ha veramente un sapore, un profumo eccellente, e la Piazza del Gusto invece dove potremo degustare, anche con speciali pacchetti convenzionati con il comune, piatti al tartufo bianco pregiato. Ricordiamo anche che Fano TV è partner esclusivo del vostro evento, per cui invitiamo tutti domenica 18 ottobre a venire l'ultima domenica. Poi magari ci aggiornerà, facciamo un bilancio di queste tre domeniche? Ma sicuramente sì, Fano TV è un nostro partner importante, tra l'altro, il bilancio delle tre domeniche lo faremo alla fine della manifestazione, e magari anche se voi siete così gentili e disponibili tramite le vostre emittenti, ma se domenica prossima il sole ci bacerà ancora, batteremo ogni record. Grazie davvero al Sindaco Francesco Baldelli per essere stato con noi. Grazie mille e a presto allora. Grazie a voi, speriamo di rivederci presto. Un saluto a tutti i telespettatori di Fano TV. Grazie allora anche ai nostri telespettatori per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti i telespettatori per averci seguito